non posso entrare a norsi non era il paninaro buongiorno signor negoziante ma non negoziate in generale mi ha detto di cercare quei piccoli libretti di canzoni tanto tempo che nessuno me li chiede posso provare a dare un'occhiata ma lei è un raffreddore tremendo conosco un posto dove crescono delle erbe per preparare un infuso ci vado subito e gliene parte un po ok prima devo andare alle erbe miracolose a vedere perché mi dice quanti ne ho ah un ottimo minchia le ma cinque di queste dove cazzo allora mappa ah la al pascolo in montagna madonna questo deve essere un gioco proprio emozionantissimo andiamo 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 vai vai se ho forza lo continuo eh lo faccio tutto se ho forza nooo parca puttana meno male che li recupi madonna sta telecamera credo che devo andare qua no non devo andare qui dai da la dovevo andare ma se mi buttassi da qui vediamo se si ammazza se magari faccio ah no non può nemmeno non può nemmeno da qui si però eh si da qui si allora vediamo se si scivolo vai che non si è fatta niente o toccandoli haidi li raccoglie e questi compaiono nell'inventario nella visualizzazione dettagliata accanto alla loro immagine e descrizione vedrai anche la quantità che te ne occorre ok 1 2 si può entrare si madonna l'acqua non ha non ha movenze ok il trombettino ci suggerisce merda ok un altro questo che cazzo è uh in montagna ci sono delle case del tesoro nascoste dappertutto contengono utili indizi che torneranno a procedere nel gioco vediamo cos'è una bella spada laser vai l'alimentario il numero sopra la barra indica c'è la barra rossa ah ok ah tutto qui ti dice di madonna bellissimo quindi adesso posso andare a fargli l'infuso così magari si droga e li frego tutto il simbolo con la mano indica i luoghi in cui puoi lasciare degli oggetti del tuo inventario per portare a termine un compito per visualizzare l'inventario usa il tasto i poi premilo ripetutamente per selezionare l'oggetto corretto e infine premi il tasto invio ok ottimo allora inventario vai con i fiori vai suppongo che tu non abbia i soldi per comprare il libretto delle canzoni ho ragione è vero signor negoziante purtroppo non ho soldi e va bene per questa volta voglio essere generoso in fondo mi hai appena apportato delle ottime erbe puoi avere le melodie delle alpi signorina bello bello come la nonna sapendo che non abbiamo soldi ci ha mandato a scroccare madonna fantastico questo gioco fantastico ok si va dalla nonna vai hai tornato in casa? eh ho capito ok calmati ah la propria mano vai una bella manata allora questo oddio 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 armonie questo è il gioco basato su suoni e melodie memorizzi i suoni eseguiti nella sequenza corretta poi premi i tasti corrispondenti ah ok quindi 1 2 3 ah ok ok 1 ah proprio 1 1 ok 2 2 3 3 4 merda merda ah dun 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 tarcha perfetto ancora? no porca puttana eh ok ah bello hai vinto ok successivo bravissima un altro piccolo progresso per diventare una perfetta cantante di yodel prendi il tasto ooooooo più lo tieni premuto più Heidi respira profondamente nel frattempo puoi far ruotare Heidi con le frecce direzionali appena rilasci il tasto Heidi canterà lo yodel nella direzione verso cui è rivolta ah come come attacco come attacco che faccia? adesso non dovrei più tenere i pericoli della montagna me ne ero quasi dimenticata sono venuta a prendere i panini allora è meglio se ti sbrighi prendi anche un paio di dolcetti d'accordo? vai attacchiamo madonna ma sto gioco è è impressionante si ok sto un po' esagerando ok info no non info ah eccolo qua ah me li ha già dati ah praticamente ah i panini perfetto ok posso tornare dal nonno ok si va dal nonno e potrebbe essere finita la storia anche ok quindi in teoria adesso i nemici quando potrò sicuramente andare adesso mi da mi ha dato il potere che sicuramente più avanti cioè la missione dopo perda potrei andare magari a sconfiggere quello quei quel golem o con l'altro sicuramente il golem vorrà lo yodel più potente ottimo ottimo meno male che mi avvisa molto prima ok qua ce n'è un altro scommetto eccolo quella mica ma quante racce c'ha sto albero tutte così grosse no il fungo c'è sempre tempo per raccogliere fiori ok ma detta così sembra sembra anche la frase tipo non devo raccogliere tanto c'è sempre tempo per raccogliere i fiori cioè non ha molto senso almeno credo dove sto andando no è giusto di qua si merda eccolo eccolo si è liberato porca vieni qua bastardello no no l'ho mancato madonna vai 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 no non ti sto aspettando io mi sto strozzando un'altra cosa un'altra cosa un'altra cosa ma di qua non è ok è un'altra strada che collega qua non dice niente beh va vediamo e no dove sto andando no no via via ci andiamo dopo anche perchè se non ho la missione attiva è inutile che ci vado minchia stavo cadendo giù porca no non è di qua non è di qua porca puttana ecco qua mi ricordo questo saltello me lo ricordo ok siamo arrivati ecco casa dolce casa ok una manata al nonno allora vai prima i panini dove sei stata Heidi sono ore che ti aspetto la nonna mi ha insegnato a cantare lo yodel sei tanto arrabbiato nonnino no cantare ti sarà molto utile contro i pericoli della montagna oh oh accidentaccio la mia schiena il prato deve essere ancora falciato se sei d'accordo vado da Peter troveremo un modo per aiutarti dai che magari si faccia un dito vai 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 ok devo andare da Peter madonna ma quanto cazzo sono lunga le storie ok qua al pascolo di montagna dove devo andare sicuramente la strada nuova e certamente devo andare di qua però faccio questa strada allora dove c'è quello lì il ghiacciaio sciolto merda questo c'ho paura no l'ho mancato no 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 madonna oh i funghi magari si possono no i funghi no madonna però guarda che è un titolo comunque complesso per essere un titolo di merda c'è la volontà comunque c'era di realizzare qualcosa di bello perché alla fine non è poi così malvagio io penso che questo qua se ci giocavo qualche anno fa quando ero molto più piccolo l'avrei apprezzato tantissimo eh al pascolo ok sarà al pascolo vabbè qua si torna indietro ah no al pascolo anche di qua di qua vediamo ok qua niente c'è un giro tondo quindi vado giù di qua cazzo voglio andare a trovare Peter al pascolo in montagna ok non so se queste frasi che vengono fuori le dice perché sto andando nella direzione giusta oppure mi dice tipo attenta non stai andando eh sì forse sì forse scusa di qua ok di qua di qua ci posso no 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 merda ce n'è un altro dai ma come scappa no 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 ok allora m ok sto andando giusto sto andando giusto guardo molto la mappa perché non ho voglia di farmi una camminata inutile perché voi non potete capire il controllo allora ok siamo arrivati ok sono pieno guarda sono full quello lo prenderò no non voglio uscire mi confondo sempre no quale me la tengo lì non si sa mai mai eccolo qua eccole le caprette ciao Peter indovina ho imparato a cantare lo yodel ah ecco perché non sai più correre veloce oh ehm ma no ora non devo più temere i pericoli della montagna quindi sì che corro più veloce ma è la stessa voce fa sia Heidi che pezza credo allora labirinto un labirinto è un giardino con una sola via d'uscita devi trovare velocemente la strada che ti porta alla bandierina non lasciarti ingannare dalle strade intricate dai vicoli ciechi ok però dai bello bello allora vediamo qua no no qua no quindi di qua ma guarda il figlio di puttana vedete che lo frego d'accordo mi hai battuto ma solo per questa volta e adesso cosa facciamo pensiamo a come aiutare il nonno la schiena gli fa così male che non riesce a tagliare l'erba del prato oh adesso ho troppa fame per pensarci ah il dolcetto ok devo darli ok aspetta intanto vediamolo qua ok si si minchia che consigli utili ok allora te ti do il lecca lecca ma con la pancia piena riesco a pensare meglio proprio ci sono prendi una capra si mangerà tutta l'erba così il nonnino non dovrà tagliare il prato minchia ingegnoso ingegnoso da qua non posso cadere devo tornare indietro madonna qua ci vorrebbe un viaggio rapido però dai nel seguito voglio un viaggio rapido no i